buon mattino buona domenica e buona festa della mamma rieccomi con voi quasi stanco e sausto dopo tutti questi aggiornamenti ma come ci fa a non essere con voi mi sono svegliato questa mattina in socialia dove diluviava perché qua ci sono correnti meridionali lungo tutta la penisola e a Sora dove mi trovo che è a ridosso dei rilevi a Penninici è bastato dopo una giornata molto grigia ieri che lo Stau proprio la genesi di queste correnti da sud generasse pioggia anche intense tutta la notte altre piogge ora vedrete sono in atto nella pianura padana lungo un allineamento che va dall'Appennino Ligure fino al Friuli altre piogge sono in arrivo al sud ora il peggio deve arrivare il peggio deve arrivare guardate dietro di me eccolo eccolo guardate che titolo ciclone bomba ero in dubbio se fare un titolo del genere perché può essere scambiato come senso azionalistico in realtà ciclone bomba è una definizione ben precisa è anche prettamente tecnica significa quando una depressione mediterranea alle medie latitudini in genere diminuisce di ventiquattro ectopascal o millibar che preferiate in ventiquattro ore cioè c'è un abbassamento di pressione di un ectopascal l'ora abbassamento di pressione così repentino così rapido significa un forte peggioramento e questo è quello che avverrà nel tirreno meridionale con un minimo che si approfondirà fino a valori inferiore a 990 ectopascal diciamo ieri tra i 985 e i 990 adesso vedremo che valori raggiungerà risalirà la penifra proprio lungo un asse nord sud arriverà fino al diatico settentrionale che genererà 36 48 ore di maltempo attenzione guardate è veramente il caso di fare attenzione perché oltre eventi forti saranno piogge molto intense che risaliranno tutta la penisola le coste del tirreno centro meridionale saranno battute anche da violenti rovesci ma anche tra lo stretto di sicilia tra sicilia e sardegna che poi ancora una volta l'emiglio romagna e il nord west sembrano essere presi di mira anche le marche medio alto adriatico da piogge continue nella seconda parte di questo peggioramento anche in se potranno anzi molto probabilmente diciamo dureranno una situazione preesistente già molto grave con l'alluvione di pochi giorni fa quindi la situazione veramente in evoluzione non è esagerato parliamo di ciclone mediterranea un ciclone extratropicale e come ho detto significa ciclone bomba perché presenterà ormai quasi certo una diminuzione repentina di pressione con un minimo che si formerà nelle nell'atlante orientale tra algeria e tunisia e poi risalirà approfondendosi molto rapidamente dalla penisola andiamo a vedere cosa sta accadendo intanto perché questo è il peggioramento che arriverà ma intanto guardate guardate quante nubi e noi siamo proprio collocati lo vedete il ramo ascendente cioè tra sud ovest e nord est cioè questo fiume di nubi e con carico di umidità che risale in un fiume proprio lo si chiama atmospheric river credi un fiume di aria umida che risale le nostre regioni genera piogge diffuse al nord guardate con una occlusione praticamente mentre qui tutte le nubi che risalgono vienano precipitazioni sulla pennina e altri nuclei molto intensi stanno risalendo da sud ma questo ancora non è il peggioramento che arriverà perché poi si deve ancora formare il minimo che genererà il il ormai famoso ciclone bomba guardiamo bene ecco qua guardate le precipitazioni come risalgono il sud qualcosa ancora si stava in appennino e tutte le precipitazioni disposte con questo asse nella pianura padana e poi guardiamo cosa accade qui questo è il modello europeo di stamattina stiamo contando sempre il modello europeo e quindi il più affidabile a ormai a 40 24 48 ore guardate qui vedete questo giallo guardate questa depressione mediterranea e guardate cosa succede qui vedete qui dove si schiarisce c'è un minimo che con un tipo un pendolo con moto anti orario risale le nostre regioni forma questa profonda depressione nel terreno qui siamo a lunedì sera notte risale ancora guardatelo ci attraversa completamente e resta qua fino a mercoledì quindi sarà un peggioramento molto intenso e duraturo ma poi il tempo non migliora completamente tra genesi di una depressione mediterranea secondo il modello europeo guardate qui a metà settimana e continua continua poi addirittura verso la fine della emissione qui sarebbe a dieci giorni guardate come viene rialimentata e la nostra bassa pressione a causa di una forte presenza dell'anticidione delle azzorre alto in atlantico il contrario di quello che è avvenuto lo scorso inverno basse pressioni che continuano ad alimentare il mediterraneo essere alimentate scusate d'aria fredda che viene da nord nel mediterraneo e generano peggioramente in serie e allora andiamo avanti guardate adesso questa questa previsione questo è un sito che elabora le carte del modello europeo e queste sono le precipitazioni questo è lo stato attuale di stanotte diciamo le precipitazioni a cui io ho anche assistito vedete quelle nei cali centrali guardate come prosegue ecco qua adesso continua eccole precipitazioni che si spostano al nord poi ancora precipitazioni scusate non si inquadra bene questo è il miglioramento che ci sarà in tarda serata tarda serata ma oggi ancora precipitazioni lungo tutta la penisola e al nord poi domani ecco qua domani mattina primoro del mattino guardate cosa avanza da sud eccolo guardate la bassa pressione eccolo il minimo lo vedete qui in basso al centro della figura e guardate tutte le piozze che gli stanno attorno qui siamo su valori anche di 40 50 millimetri ogni sei ore già sulla sicilia occidentale poi risale qui addirittura arriviamo a 70 80 millimetri in sei ore e risale il minimo adesso viene il peggio eccolo qua guardate come con le sue spire prende tutta l'italia qui siamo a 48 ore quindi siamo lunedì notte lunedì notte martedì mattina ecco l'italia che viene presa completamente al ciclone e qui siamo nella fase forse di maggior maltempo quella che ho disegnato poi nelle carte in cui dal da nord a sud precipitazioni che prendono quasi tutta l'italia ma non è finita ecco qua adesso le alpi si spinge al nord neve copiosa anche sulle alpi guardate guardate quanta neve e continua la precipitazione tutta italia è ancora qui e qui emilia romagna presa martedì sera notte qui dai quantitativi fino a 50 60 millimetri in sei ore che si aggiungono a quelli già già avuti e ancora maltempo guardate siamo a mercoledì e non finisce mai mercoledì tutta la giornata piogge 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 giovedì 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 ancora piogge sull'italia più sparse continuano venerdì e poi addirittura un altro peggioramento che avanza ad ovest sul finale della previsione guardate come continua guardate è incredibile questo è un altro peggioramento tra una settimana secondo il modello europeo poi vedremo ancora insomma senza fine questa è la fine della previsione poi andiamo avanti e mi sembra di aver detto quasi tutto ma un'altra cosa ve la voglio far vedere questo guardate i venti il rozzo vedete questa previsione il rozzo qui siamo a 48 siamo a lunedì sera il rozzo indica la raffica 100 all'ora e il marroncino un po meno guardate l'orsi rock a 100 all'ora che risale l'adriatico e che genera maltempo poi il maestrale sempre a 100 all'ora tra martedì mercoledì che arriva e insomma e insomma tutto quello che vi è stato detto nei giorni scorsi si sta verificando dopo i nubi fragili anche a carattere locale che abbiamo avuto adesso arriva un peggioramento più organizzato piogge diffuse piogge stese e ho salvato qualche carta per farvela vedere questo è quello che è dietro di me guardate cosa ho scritto repentino abbassamento nella versione genesi del ciclone mediterraneo ciclone bomba quindi questa copertina indica un ben preciso evento meteorologico catalogato quindi come ciclone bomba perché sembra ormai quasi certo che ci sarà questa repentina diminuzione del minimo di superiore alle 24 24 ectopascali in 24 ore e questo è quanto e mi sembra di aver detto tutto è incredibile quello che sta accadendo quindi piovuto tanto avremo altre 72 ore di maltempo capito bene e poi non si sa come andrà e quindi ancora una volta vi dico pensate a quando vi hanno detto a fine aprile che sarebbe arrivato il caldo dell'anticiclone ancora è ben lontano questo assetto tende a essere molto pigro e forse rimarrà ancora vi farò sapere quando terminerà ma adesso ci saranno altri aggiornamenti con tutto quello che sta succedendo iscrivetevi al canale youtube cliccate la campanellina se volete i bonus grazie mi raccomando seguite perché c'è tantissimo da seguire un abbraccio a tutti ciao ciao seguite meteoscienza ciao